Le notizie del giorno. Preoccupa e fa discutere il nuovo video messaggio di Bin Laden, nel quale invita il popolo arabo a non mangiare cozze crude. Un pool di esperti sta esaminando se il messaggio non contenga una velata minaccia al nostro paese. E adesso la pagina sportiva offerta da... Banca Popolare di Pari. Una banca internazionale, proprio sotto a casa tua. Banca Popolare di Pari Banca Popolare di Pari